Salve a tutti, ieri sera, 5 agosto 2013, i reparti operativi ufficiali medici deviati di Roma mi hanno ripilotato con il controllo della mente a distanza. Hanno detto in comunicazione telepatica in frequenza diretta che sto aiutando delle persone innocenti a fargli capire con quale tecnologia satellitare vengono torturati e che quindi mi hanno pilotato a forza sotto ipnosi celebrale, blocchi di memoria, frequenze dirette della manipolazione indotta del pensiero e modifica della volontà e del desiderio. Vi spiego che cosa hanno fatto ieri sera. Innanzitutto io stavo parlando su OVO con una ragazza. Abbiamo parlato per telefono, abbiamo parlato su OVO e cercavo di fargli capire alla ragazza di stare tranquilla che gli esperimenti e le tecnologie che utilizzano e i programmi che utilizzano sulle cavie umane o sulle persone sono sempre i stessi e che servono per effettuare un colone della mappatura delle frequenze cerebrali e che poi rimettono le stesse frequenze nel nostro cervello sul corpo per creare dei gravissimi disturbi o delle sensazioni simulate. E mentre parlavo con la ragazza sia per telefono che sia su OVO facevano in continuazione cascare la linea del telefono mentre stavamo in comunicazione telefonica la linea di internet su OVO mentre stavamo in videochiamata e ovviamente la ragazza e io venivo bombardato in continuazione attraverso le frequenze del surriscaldamento, le frequenze della manipolazione e le frequenze ipnotiche del blocco del memoria temporanea. Così le frasi che stavo per dire alla ragazza mi venivano bloccate e manipolate attraverso il controllo MKUltre Italia che viene effettuato dal satellite spia che sta a nord, il quale è il quarto satellite che collega l'ipotalamo e attraverso il controllo neurale modificano tutti i parametri cerebrali e le frequenze fisiologiche. Voglio ricordare che insieme al quarto satellite che sta a nord ci sono i tre satelliti per la triconometria GPS per la localizzazione in tempo reale sui monitor dei deviati corrotti ufficiali medici di Roma che effettuano esperimenti e collaudi di tecnologie ad armi ad energia diretta satellitare su cavi umane. Allora vi dico che cosa hanno fatto perché hanno detto che io sto aiutando queste persone innocenti ad uscire da una sorta di depressione simulata, una sorta di torture simulate, una sorta di manipolazione cerebrale simulata. Ieri sera dopo che avevo parlato con questa ragazza mi hanno incominciato ad alzare tutte le frequenze del caldo e tutte le frequenze della sudorazione. Mi creavano danni al computer facendolo suriscaldare tutte le parti metalliche e creavano un suriscaldamento nel punto di localizzazione dove io stazionavo e quindi ero costretto a spostarmi in continuazione da un posto all'altro e mi arriva rallentato internet attraverso la manipolazione del monitor desktop creato da questi deviati all'interno dei laboratori. Così possono vedere dal mio computer sia attraverso la webcam che sia attraverso il computer stesso e sentire attraverso il microfono nello stesso computer tutto quello che io sto facendo perché hanno il monitor desktop. Allora hanno incominciato così. Innanzitutto hanno fatto creare una grave patologia di rabbia a una persona che sta dall'altra parte di Roma. Questa persona ha chiamato attraverso la deduzione del controllo neurale un'altra persona. Questa persona mi ha telefonato a me e mi aveva detto che io per forza oggi dovevo andare a vedere una perdita di acqua sotto un condizionatore il quale io non dovevo oggi andare per forza a fare questa cosa ma siccome il controllo celebra la distanza attraverso la manipolazione indotta che era stato fatto su questa persona hanno fatto sì che io con l'aumento della rabbia dell'odio eccetera eccetera oggi per forza sono dovuto ritornare a casa di mia madre. Allora ho detto ieri sera ma perché ci devo andare per forza questa sera? Posso andarci domani mattina presto. Mi alzo presto e mi dirigo nel luogo dove devo vedere questa perdita. E invece gli sperimentatori collaudatori dei deviati ufficiali medici di Roma mi hanno pilotato a forza a partire sia attraverso con le frequenze deduzionali della manipolazione indotta sia con le frequenze della costrizione della manipolazione della volontà e della manipolazione della decisione del pensiero ad andare a forza a una zona di Roma forzata. Allora io ho detto mentre andavo verso questa zona ho detto non ho i soldi e quindi questa sera vado a mangiare a casa una scatoletta di torno, un pezzetto di pane e invece questi che cosa hanno pensato? mi hanno cambiato le frequenze del desiderio a rimanere a mangiare in un locale. Ma guardate che è strano, sto senza soldi e io mi fermo a mangiare in un locale? Ma come c'ho a casa? C'ho il tonno, c'ho gli affettati, c'ho il pane. Perché devo fermarmi per forza in questo locale? Lo sapete perché? Perché nel locale si beve. A casa io non bevo. E come bevo un goccio di alcol e possono aumentare la narcolessia e le frequenze della manipolazione cerebrale. Poi premetto, avevo detto che se eventualmente non andavo a casa a mangiare sarei andato al McDonald perché ci sono le offerte con le insalate e non c'è alcol. E invece loro mi hanno fatto fermare a forza questo locale a mangiare a forza e a bere alcol. Dopo alle 9 hanno aumentato tutte le frequenze alcolitiche. Premetto che ho bevuto un bicchiere di birra, forse un bicchiere e mezzo. Premetto che quando io mi siedo loro creano un blocco celebrale temporaneo, è una perdita di memoria, è una perdita deduzionale, è perdita della volontà. Il cervello parallelo risponde per il desiderio delle persone che mi stanno intorno, non per il mio desiderio. Cioè nel senso, se una persona che sta intorno a me dice vino, tutti, vino, 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 non è che io dico no, il vino no, voglio l'acqua, io devo sotto torture, frequenze dell'ustione e manipolazione cerebrale indotta, ipnosi e gravi scariche elettriche nel cervello e nel corpo, dire pure io il vino. Se non dico vino, scariche elettriche, manipolazione e tanto altro. E le altre persone poi vengono anche esse manipolate e io vengo attaccato perché dicono perché non ti prendi il vino o la birra. Che cosa succede? Alle nove in punto viene nel cambio dei sistemi neurali nazionali dove per dieci minuti devono rientrare le frequenze fisiologiche corporee e far ritornare i parametri dei sistemi neurali a frequenza fisiologica a parametri zero. Cioè senza nessuna patologia, senza nessuna manipolazione, senza nessun desiderio e senza nessun tipo di manipolazione indotta. Invece che hanno fatto loro? Come ho bevuto 50 litri di vino o 50 litri di birra. Io dentro questo locale non ci dovevo andare, io stavo andando a casa. perché non ho la possibilità di lavorare perché vengo torturato con armi ad energie dirette satellitari a manipolazione indiretta all'interno del cervello perché sto aiutando delle persone innocenti che vengono sottoposte a trattamenti disumani relativa al collaudo di altre tecnologie satellitari con armi e ad energie dirette e perché sto creando delle piccole riunioni, delle piccole cene, dei piccoli pranzi per far venire queste persone nella capitale e farle venire a parlare con noi per tranquillizzarle, per fargli capire che non sono malate, che devono stare tranquille. Lo sapete un ragazzo che mi disse? l'ho conosciuto su facebook, il ragazzo mi disse io avevo scritto una lettera e me ne stavo andando via da casa perché io non volevo più vivere sotto questo sistema di torture e di manipolazioni e di voci artificiali neurali o telepatia artificiale indotta sotto lavaggi del cervello continuo. ha detto quando ho visto i tuoi video io ho cambiato idea perché ha detto che quei video hanno dato una speranza a questo ragazzo di fargli capire che non era un pazzo perché un ragazzo di 22 anni, un ragazzo di 23 anni non può stare sotto torture forzate nel cervello ma come fa ad andare a scuola, come fa a trovare un lavoro, come fa ad avere una vita sociale con le altre persone, ieri sera infatti io cerco sempre di isolarmi dalle persone, cerco sempre di stare da solo, cerco sempre di non stare in mezzo a persone che potrebbero essere persone che potrebbero essere pilotate con il sistema del controllo a distanza o che possono essere essere manipolate a deduzioni neurali errate verso i miei confronti e allora ieri sera è riniziato di nuovo l'esperimento per il controllamento a distanza. voglio ricordare che dalle nove alle due di notte o dalle nove all'una ho avuto una diciamo amnesia celebrale come se vogliono far capire che loro mi avevano addormentato una parte del cervello e io ero diventato un manciurian candida zombie con l'elettroncefalografo celebrale piatto cioè ero come se ero morto celebramente. Loro lo fanno perché creano ipnosi totale e vogliono far vedere che la sperimentazione e il controllo della mente a distanza dopo 13 anni di esperimenti. voglio ricordare questo che tutto è avvenuto dopo il 10 febbraio del 2001 che sono stato fermato dai carabinieri l'11 febbraio iniziano le torture gravi di brucioli il 12 febbraio le torture gravi di brucioli e non sono più riuscito a vivere. Un saluto. Notate che quando avvengono dei vuoti di memoria mi si blocca il dialogo. Questo è quello che mi fanno.